Voi avete minacciato la Russia con nuove sanzioni, arrotolatevele e ficcatevele nel culo. Lui è Vladimir Soloviev, giornalista vicino al Cremlino, noto per la sua propaganda anti-Ucraina. Siamo andati alla ricerca delle sue ville sul lago di Como, sequestrate per un valore di 8 milioni di euro. Quella è la villa di Soloviev, il presentatore tv amico di Putin, finito anche egli nell'elenco delle sanzioni dell'Unione Europea. Ma lei qui non l'ha mai visto? Non l'ho mai visto, non l'ho mai. Ecco, questa è l'ultima proprietà che è stata scoperta sempre a nome di Soloviev. Sul citofono c'è anche il suo nome, ma citofonando non risponde nessuno. Ma Soloviev non è l'unico russo ad avere qui una casa. Adesso ti farò vedere la villa più bella e più famosa del lago di Como. Lei è Angelina, un'agente immobiliare di origine russa. Con Mary sono specializzate in appartamenti di lusso. Questa villa è una delle ville più famose del lago di Como, si chiama Villa Le Fontanelle, che era di famiglia Versace. Adesso appartiene a un noto imprenditore di origine russa, il signor Novikov. Quanto l'ha pagata questa? Saremo attorno a una trentina di milioni. E poco distante dalla villa di George Clooney troviamo la dimora di Igor Kogan, conosciuto come il banchiere di Putin. Mi pare che in vendita ha un prezzo ovviamente molto elevato, circa 50 milioni di euro. I russi hanno iniziato a investire qui ormai da circa 20 anni. Molti imprenditori, ex-olegarchi, che hanno comunque preferito un bel paese per la sua tranquillità, la sua bellezza e anche per la sicurezza dell'investimento immobiliare. Stiamo veramente vedendo sia nelle prenotazioni alberghiere, sia per le ville che abbiamo in affitto, un calo drastico di presenze. Per la guerra stanno cancellando le prenotazioni? Purtroppo sì, avremmo perso un 40%. Qual è lo stile di vita del russo quando viene qui? Lo escono spesso, escono a cena, a pranze, organizzano pranze in villa, servizi di elicottero quando si spostano verso Venezia. Mi chiedono l'elicottero per spostarsi? Sì, qualche volta capita. Siamo al ristorante Crotto dei Platani, che è stato sempre ambito dai clienti russi. Qui stiamo entrando nella parte più interessante, quella che piace un po' più ai russi, la cantina. Qui abbiamo una delle bottiglie più importanti che abbiamo in casa e queste sono le bottiglie che piacciono agli nostri cari amici clienti russi. E quanto costa? 6.000 euro. È un bel bere. Com'è cambiata la tua attività da quando è scoppiata la guerra? Beh, diciamo che sono due domeniche che il lavoro ha avuto una bella flessione. I russi sono dei bei clienti. Cari rapporti economici di chi ha una casa qua o di chi vive qua, secondo me la situazione sta prendendo un po' una piega sbagliata. E' essere tutto un'incognita. E allora bello...